Weekend di calcio per le formazioni giovanili dell'US Avellino. Sabato al Partenio Lombardi la formazione Under-19 guidata da Raffaele Biancolino ha battuto 2-0 la Juve Stabia nella quarta giornata del campionato di Primavera 3. La Juve Stabia è arrivata al Partenio conscia dei sette punti finora conquistati frutto di due vittorie ed un pareggio. La Vellina è iniziata al meglio questa stagione con 6 punti ottenuti nelle prime due giornate con la terza giornata di riposo vista il numero dispari di squadre partecipanti. Una partita combattuta a viso aperto con il primo tempo che ha visto le Vespe Stabiesi creare molti pericoli alla formazione bianco-verde colpendo anche un palo. Nel secondo tempo complice anche i cambi di mister Biancolino che nell'intervallo ha inserito Fusco, Esposito e Serra la formazione bianco-verde è cresciuta trovando la rete al vantaggio con Campanile al minuto 70. Dopo pochi minuti Bomber Fusco raccoglie un pallone ai limiti dell'area di rigore e approfittando di un certezza il portiere avversario calce in rete firmando il raddoppio e la rete che chiude la gara su 2-0. Domenica è stato il turno delle formazioni Under-17, Under-15 e Under-16 le prime due sono state impegnate nei match in trasferta contro il Catania la formazione Under-15 crolla 3-2 in una gara combattuta a viso aperto con i bianco-verdi che non sfigurano al contrario l'Under-17 vince il rimonta contro il Catania 2-1 con il gol di Coppola arrivato al novantesimo la squadra di Mister Gigi Molino si trova a punteggio pieno nel girone con quattro vittorie ottenute nelle prime quattro giornate vittoria anche per l'Under-16 che va tra Turis 2-1 verso lo stadio Walter Russo di Venticano Grazie mille! Grazie mille!